Pirelli è un marchio storico, oggi abbiamo anche la fortuna di avere delle auto storiche. Quando ero ragazzino mi ricordo che la prima cosa che vedevo è che tipo di pneumatici avevano queste automobili. Quindi Pirelli è un marchio che conosciamo tutti quanti noi. Oggi c'è questa nuova apertura a Bari perché si sente l'esigenza di lavorare con dei professionisti del settore. Grazie per quello che dice di Pirelli. Pirelli è un marchio storico, un marchio storico che prova avanti e innova. E come vuole innovare? Vuole innovare cercando professionisti nel settore come questi. Professionisti che qua a Bari hanno creduto in questo progetto, progetto driver, progetto di una qualità di servizio, di star vicino al consumatore. Noi abbiamo bisogno con i nostri prodotti di arrivare al consumatore, all'utilizzatore e l'intermediario fondamentale. Qua abbiamo trovato dei partner che hanno creduto in un progetto nuovo, un centro auto con qualità, servizio, innovazione, centri di revisione, per avere una vicinanza al proprietario dell'auto in un modo diverso. Ripeto, con qualità, servizio e innovazione. Vincenzo, Dino e Michele in un momento così catartico, in un momento di crisi hanno deciso di aprire un'officina specializzata a Pirelli. Ma saranno diventati matti? Assolutamente no, perché loro, si vede dalla faccia, sono dei professionisti nel DNA e vogliono lavorare per voi, anzi vi vogliono accogliere in questa officina che oggi inaugura. Diciamo con un bel auspicio, perché hai tutto il gota della Pirelli. Sì, sì. Abbiamo cercato di cambiare le regole del gommista convenzionale con un punto auto diverso. Questo tutto in collaborazione con Pirelli, un grosso marchio che ci ha dato fiducia e ricambiamo. Anche perché è importante avere il pneumatico giusto, è un po' come le scarpe che devono calzare bene. Perfetto. Grazie. Niente, buonasera. Grazie a tutti.